Una regione in crescita con un prodotto interno lordo che nel 2016 ha segnato dopo tanti anni un rialzo dell'1,4%. E' questo il numero da cui riparte l'Assemblea di Confindustria Forlicesena, riunita sia a Cesenatico per l'approvazione del bilancio. Dobbiamo da questi piccoli segnali cantare vittoria, anzi dobbiamo essere ancora più focalizzati, noi imprenditori, le istituzioni e soprattutto i governi locali, nazionali. Quindi penso che l'Italia, come sempre ho detto, ha delle grandissime opportunità, negli ultimi dieci anni ne ha perse tante, può recuperare, quindi invito la Romagna, invito il nostro territorio a tenere duro e come sempre ha dimostrato di dare al mercato diciamo quell'innovazione, quell'eccellenza che ci contraddistingue. Un'occasione anche per fare il punto sui rapporti complicati con i cugini di Confindustria Romagna. Speriamo di riprendere un dialogo costruttivo nei binari giusti per assicurarci un futuro, perché se facciamo una mucchiata soltanto perché qualcuno deve prendere le poltrone a destra e manca, non va bene. A proposito quindi di Confindustria Romagna, c'è la possibilità di una riappacificazione? Una riappacificazione, dobbiamo riportarla nei binari come viene fatta la fusione fra due imprese, che sappiamo come partiamo e dove vogliamo arrivare. Grazie. 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 Grazie.